Tornare in un posto di lavoro dopo 18 anni è un grande cambiamento, ma si fa. La fortuna oggi è avere un lavoro, quindi io posso dichiararmi fortunato di poter essere tornato nel mio posto di lavoro. Vice sindaco di Venezia, pro sindaco di Mestre, segretario provinciale del PD e poi onorevole. Ora Michele Mognato è tornato al suo lavoro di commesso in un grande magazzino di Marghera dopo un'aspettativa durata 18 anni. Alla faccia di chi lo accusava di far parte della famigerata casta tra le cui schiere un paracadute si trova sempre. C'è chi ti vede, ti riconosce e quindi magari è contento che tu sei tornato a lavorare. Oppure magari tanta gente che non sapeva nemmeno che io lavoravo già prima lì e tanta gente che ti guarda con rispetto, persone che ti guardano con rispetto e magari si chiede perché non sei riuscito a trovare una collocazione diversa. Io penso che ognuno ha la propria dignità e il proprio orgoglio e quindi io non ho nulla né da pentirmi di quello che ho fatto né da pentirmi di quello che sto facendo adesso. Nessun rimpianto per la sua parabola personale ma una punta di amarezza per quella di un centro-sinistra italiano sempre più distante dal mondo operaio, prigioniero di uno snobismo da classe agiata. La grande forza della politica nel novecento e anche in questi anni è permettere a persone che magari hanno scelto di non studiare o non hanno potuto studiare e hanno fatto un lavoro di poter diventare amministratori o politici. La politica è anche riscossa sociale, riscossa civica e quindi avvicina le persone che non... anche chi in qualche modo fa un lavoro normalissimo e questo quindi è il grande pregio della politica. Tornare dopo un ventennio nel mondo del lavoro racconta significa toccare con mano come questo sia cambiato. Purtroppo le riforme degli ultimi governi hanno contribuito al peggioramento delle condizioni generali. C'è più precarietà, c'è più incertezza, c'è più preoccupazione di persone che magari hanno la mia età, che insomma non sono più giovanissime, di vedere il proprio futuro con arrivare alla pensione. Quindi il primo argomento per esempio è la Fornero per chi ha una certa età, la riforma della Fornero o la pensione.